Il fatto che lei non si è minimamente pentito di essersi dimesso, anzi è molto soddisfatto di come stanno andando le cose, però invece le voglio chiedere alla luce anche della polemica che c'è in queste ore nel Partito Democratico perché Ricoletta ha cambiato molti ruoli, alcuni sono già operativi, vice segretari, altri vuole cambiare, lo ha annunciato, ha detto che vuole due donne capogruppo in Parlamento, Camera e Senato, i due capigruppo non l'hanno presa molto bene, uno in particolare, Marcucci, al Senato, le voglio chiedere, questa operazione di rinnovamento che Letta sta facendo proprio nelle ore immediatamente successive al suo insediamento, molti pensano che avrebbe dovuto farla anche lei e che in qualche modo sia stato un po' il peccato originale della sua segreteria, che lei forse anche per tenere unito il Partito ha rinunciato a cambiare degli uomini creando una situazione di tensione oggettiva nel Partito, si pente di questo, le avrebbe cambiati anche lei per esempio i capigruppo, visto anche i problemi che ha avuto con loro. Ma guardi, in parte è vero, è così, noi abbiamo prodotto un cambio del gruppo dirigente e anche dello statuto sulla parità di genere negli organismi esecutivi, ma non c'è dubbio che io nel 2018, dopo il 2018, ho dato la priorità all'unità del Partito, con due scissioni, una politica che permettesse a tutti però di sentirsi parte di questo, addirittura abbiamo aperto alle europee a Carlo Calenda presentando una lista unitaria, quindi una forza aperta, unita e unitaria e questo ci ha permesso, ripeto, di diventare il primo partito alle ultime amministrative con sette regioni che andavano al volo. Non bastava, non bastava, giusto. Infatti io penso che quello che sta facendo Enrico sia molto positivo perché aiuta dopo il passaggio del testimone arrivare a meta e a meta sa qual è, arrivare al 2023 o quando si voterà con una coalizione vincente per impedire la destra italiana che io penso abbia fallito nel suo progetto politico, tanto che sostiene Draghi, il più grande europeista italiano da una forza nazionalista e anti-europeista, permettere invece a questo campo di forze di arrivare alle elezioni e vincere. E io sono contento, non è che non abbia pagato un prezzo o che non abbia subito un colpo, ma figuriamoci, però si viene in televisione tanto a dire che la politica è servizio per il bene comune e non per se stessi e io penso di averlo praticato. A un certo punto ho capito che per il progetto era meglio fare la mossa del cavallo, come diceva Vittorio Foa. Vittorio Foa.